Salve a tutti da Giussi, oggi preparo una crema pasticcera senza uova, molto delicata e leggera. Quindi gli ingredienti sono 500 ml di latte, io uso il latte di riso, 200 g di zucchero, io uso lo zucchero di canna, 70 g di farina, 30 g di maizena, una buccia di limone e 3 gocce di vaniglia. Quindi andiamo a preparare, inseriamo lo zucchero e le bucce del limone, polverizziamo 10 secondi, velocità 9, dopodiché mettiamo tutte sul fondo e andiamo ad aggiungere la maizena, la farina, le 3 gocce di vaniglia e il latte. Facciamo cuocere, 7 minuti, 90 gradi, velocità 4. Quando la nostra crema è pronta, la versiamo in un contenitore e la mettiamo a raffreddare. Vi ricordo che questa crema pasticcera è senza uova. Dopo aver versato la crema nella pirofila, mettiamo la carta, dobbiamo farla aderire con la crema, così non si forma la crosticina di sopra. Quindi la facciamo raffreddare per bene e poi la mettiamo in frigo. Questa è la mia crema pasticcera senza uova. Fatela che è veramente ottima. Alla prossima, ciao!